Hi guys! Fala galera, la Chikos, ragazzi, eh ragazzi, bellissimo, iniziamo benissimo, ecco, proprio così ragazzi, su Nuketown, oggi andiamo a fare un po' di tutti contro tutti, cercando di vincerne quante più possibili, raga, subito iniziamo con una kill Devo un attimo mutare, aspetta un attimo ragazzi, devo mutare gente che parla a caso, non credo che devo riuscire a sentirli, ma le hanno totalmente fastidie, le zanzare che mi danno i morsi, no dio santo Sto scegliendo di una classe col silenziatore, raga, cuda col silenziatore, col calcio Mori dai, non male Dai, muori 20 corti, raga, ricarichiamo Dov'è? Mamma mia, le scosse, porca Dio santo, le scosse Quello che sta col Vesper Dov'è la persona? La stava qui Mamma mia, già stanno a camper da sopra Ma raga, non ci sto a capire un cazzo Purtroppo oggi Sentite i pompa ragazzi, perché oggi 5 luglio 2016 Ci sono i contratti giornaliti che Intelligentemente Bisogna fare 50 uccisioni con Il pompa Con un qualsiasi fucile a pompa Per vincere, mannaggici Chita morta Scusate ragazzi Ancora Ma io non sono neanche spawnato Ma non sono neanche spawnato Ragazzi, dobbiamo giocare a cani, ho capito Questo Da bastardi Dove siete? Porco zio, porco Con sto pompa di merda Che te lo mettessi Nel culo Dove che sei? Ok Mamma mia, mamma mia La connessione è ottima, però È la mia, ragazzi, non è otto E basta salire lì sopra Madonna Guardalo Mori Eh, raga, raga Lo state vedendo, no? Da dietro O di lato Perché c'ho lo shite, raga? E prima Qua c'è uno respiro shite Questo deve morire Adesso sta rompendo un po' troppe coglioni Mori Ok, non me ne futto Basta che è morto quel maklat Dio santo Davanti e dietro Questo spawn di merda Mori Merda Eh, raga Non li trovo C'è incredibile Snookta Non trovi avversario Mori Eh, sì Mamma mia Guarda che culo Dio santo È finito i colpi Raga, 15-20 Scusate se sono in silenzio Ma Ho bisogno, raga Una doppia, no? Ecco lì Ecco lì Lo sapevo Lo sapevo Non si può stare Un secondo fermi Che ci sono questi Che corrono come matti Col pompa Dove sei? Dove sei? Mori Ok, ragazzi 18-20 Da dove? No, raga Porco zio Col brecci Basta Datemi Datemi respiro Sto spawn di merda No, vabbè Non si può giocare Come si fa a spawnarla Sto spawnato Stai oltre Mori, dai Ok Eh, ti ho sentito E ti ho visto Soprattutto Mori di nuovo Dietro Porca miseria Lo shite, raga Speriamo di fare qualche kill Ottimo 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 Sì Andiamo così Andiamo subito Ragazzi Al prossimo deathmatch Andiamo a vincere anche quello Dai Eccoci ragazzi Al secondo Tutti contro tutti Questa volta Siamo su Mi ricordo l'avanzo Sarai dovuto Ok Eh, ragazzi Ma no, vabbè C'è L'ho mancato in tutte le maniere possibili Ok, ma come sta il Ok, 33 Ma cosa è? Perfetto Il ping, ma Vabbè Arriva qualcuno lì? Qualcuno arriva Che forza da qua, raga Eccolo Ottimo timing Questa volta Oh, cazzo Ah, l'uomo Eccoli qua Ancora, ragazzi Ovviamente Fucili a pompa Sista lobby di prima Quindi c'è Anche su Su una mappa Enorme come questa Andiamo a mettere il fucilio a pompa Va bene Dovremmo essere noi Avvantaggiati a sto punto Eccolo Eh, vaffanculo Vai a fare in culo Vieni, vieni Vieni Che cane Mi faccio un giro alla dieta Aspetta un attimo C'è qualcuno alla dieta Che mi sta seguendo Eh, fratellone No, no, no Questo deve essere mio Oh, vieni qua Oh, ragazzi Che fortuna Stiamo 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 Abbastanza Benino Ora Arrivano qualcuno Di qui Qualcuno ha usato Glitch lì Ragazzi Diamo un po' Questo Questo fa giro qua No, che cazzo Io l'avevo preso Non è entrato neanche un colpo Ma Questo dove cazzo Sta a fondo Mappissimo Vieni qua, dai Eh Muori Quanti colpi Da dove vengono Dove vengono Vediamo qua Da sinistra No Allora Viene da qua No, ragazzi Viene da sinistra Questa, ragazzi È la casa Dove Vengono praticamente Tutti Quello l'ho visto No, vabbè Questa Me la dovete spiegare Questa cosa Cioè, guardate come va No, vabbè Ragazzi Cioè Vediamo se riusciamo a fare la strage Come abbiamo fatto prima Vincendo Grazie a questa Una serie fenomenale Con lo Con lo Sight Ok, preso Vediamo le spazi un po' Più grandi, ragazzi Ok Ci debba essere solo Uno Però Non vedo nessuno Ottimo No Un cecchino Non è un Argus Un cecchino Peggio del Del Banshee A sto punto Siamo 12-4 Sapevo Sentivo Sentivo La corazza di genetica Porca Ema Mi ha Fottuto di brutto Quello Fa grande riflesso Ragazzi Permettetemelo Nada A sinistra Nada In acqua di nuovo Allora qua Dobbiamo farcelo Ragazzi Dove è questo? Purifire Manteniamoci a debita distanza Ragazzi Sto uccidendo tutto Eccolo qui E' ottimo Ragazzi Sono manshotissimo Sono veramente manshotissimo Ragazzi Eeeh 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 E ti ho pigliato 50 volte A casa Di merda Ok Ottima Questa ce l'ancorò dietro Eh ragazzuolo Mi dispiace per te Questo viene da qua? No Non è andato da qua Ok raga Quindi si chiede Agente dei monitori Qualcuno qui sopra O qui sotto Non so Noi l'aspettiamo Oh c'è un altro qua Spawnato Beh ragazzi Questa era molto più facile Confronto a quella di prima C'è Questa molto più semplice Da qua Che cazzo è? Stava laggando Non si spiega questa cosa La matrix Qua rischiata Qui c'è qualcuno Che arriva qua Ok Ah 25 punti Alla torretta Stava morendo qua No 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 C'ho il light Ottimo Dove cazzo sei? No raga 25 punti al bright Vabbè che è finita Però porca Eva Non vorrei rovinarmi Questo Discreto punteggio E invece lo sto facendo Raga Bene male Sì Sì Con la granata La torretta una kill Me l'ha fatta Vabbè Almeno questo Ok Ultima kill raga Ultima kill Ultima kill Venghi Venghi Niente Raga Non so dove sono gli avversari Dove sono i nemici? Dove sono i nemici? Raga Dai Fatemi che mi sta cosa Ma stiamo scherzando? Cioè io riesco a occupare Tutti i spawn di tutta la mappa Vabbè facciamo il giro della mappa A sto punto Addirittura Questa c'è un becco Vedi? Va bene Ottimo così ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Questa era molto più semplice Devo essere onesto Potevo fare anche 34 35 Mi sto allenando un bel po' Nei tutti contro tutti Perché penso che sia Anche seguendo i consigli Lama allaggante Su video Faccia migliorare molto Ecco E quindi La sto facendo sempre più spesso E devo essere onesto Mi sta dando buoni risultati Quindi Sono felice di questo Raga Io Se vi piace il video Se volete altri Tutti contro tutti O Comunque più video di Black Ops Fatemi sapere con un like E con un commento Consigliandomi qualcosa Anche qualche challenge O roba del genere Ci vediamo Al prossimo video Falou E' nois